Ben trovati, finalmente trascorrerò anch'io un felice Natale, un buon fine 2010 e un buon inizio 2011, perché insomma le notizie che avevamo già anticipato legate ai tanti tagli verso i cittadini permetteranno a coloro che non sono più rappresentanti in Consiglio regionale, al di là dell'appartenenza politica, se centrodestra, centro-centrosinistra, permetteranno di pagare a questi l'assegno di fine mandato e anche il vitalizio mensile, ossia una sorta di liquidazione per non rappresentarci più in Consiglio regionale e una sorta di pensione che verrà data ogni 30 giorni. Certamente è ironica la mia affermazione, ma è vero invece che si sono recuperate delle risorse tagliando su spese legate a noi semplici cittadini, ossia su contributi che potevano giungere per poter fruire di servizi sanitari, è stato tagliato anche un contributo importante per poter dare un aiuto all'acquisto dei libri di testo per tanti studenti, sono stati rintrodotti alcuni ticket per alcune categorie che ne erano esenti, tutto questo permetterà a coloro che non ci rappresentano più all'interno del Consiglio regionale di percepire tra i 90 e i 430 mila Euro di liquidazione, a secondo della loro presenza e quindi di quanti anni sono stati seduti in Consiglio regionale, così come avranno la possibilità di ricevere ogni 30 giorni la pensione che per un normale cittadino può anche non superare i 500 Euro, per un normale consigliere regionale non sarà mai inferiore ai 3-4 mila Euro ogni 30 giorni e beh, hanno sudato tanto per risolvere i nostri problemi, volete che non ci sia un riconoscimento pubblico malgrado i tanti sprechi? Così come perché Vernaleone, ossia il sottoscritto, si incavola tanto quando denuncia il regalo dell'iPad, sia per i senatori che per tutti i consiglieri regionali e ha risposto al povero Vernaleone il Presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, che ha avuto anche la sostituzione del suo telefonino con il modello più recente, mi dicono, ossia l'iPhone 4, perché dice ma non comprendo, dice Introna, queste polemiche sul aver regalato l'iPad, no, prima si regalava il computer, adesso l'iPad, per cui non vi è un aumento di spesa, qui stiamo veramente impazzendo, qui stiamo perdendo i lumi della ragione, qui si devono tagliare i costi inutili di soggetti che percepiscono 9 mila Euro l'anno, non che bisogna mantenere quei costi per beni superflui, perché loro se li possono garantire e invece non c'è più il contributo per le famiglie più povere, per l'acquisto del computer, per l'acquisto dei libri, per l'esenzione del ticket, per poter fruire di servizi sanitari, questa è una vergogna, così come ancora nessuno ha preso di petto la questione dal sottoscritto sollevato e ripresa anche da striscia la notizia di 7 milioni di Euro sperperati ogni anno e per 5 anni per un ospedale fantasma come il lebrosario di Gioia del Colle, nessuno, né centrodestra né centrosinistra ha chiesto le dimissioni di chi ha garantito tutto ciò e poi sapete invece che in 10 anni abbiamo risolto, grazie alla solidarietà del semplice cittadino, tanti problemi, abbiamo dato tante risposte certe a tanti bambini di Coramico, in 10 anni i cittadini normali e comuni come noi hanno donato quasi 3 milioni e 700 mila Euro e regalato 112 auto e dato risposte a 454 famiglie, in 10 anni abbiamo raccolto, grazie alla solidarietà e non è poco e tantissimo, la metà di quanto annualmente percepiva un ospedale che non svolgeva alcun ruolo determinante per la sanità pubblica perché la lebra non è più quella malattia che era decenni fa, per il lebrosario 7 mila Euro sì, però per iniziative importanti certe e determinate forse è meglio non pensarci tanto, e beh sì, tanto a noi ci dobbiamo pensare sempre da noi, a domani!